Partiamo dall'ospedale della Gruccia perché l'ospedale della Gruccia è un ospedale importante nel territorio e in questo momento in cui c'è una situazione molto grave della sanità pubblica con un problema di risorse, un problema di assunzione di personale vediamo che gli ospedali del territorio subiscono queste riorganizzazioni, razionalizzazioni ma poi in realtà diventano tagli e quindi subiscono questi problemi. Curiamo la sanità è lo slogan scelto dalla CISL questa mattina un presidio della funzione pubblica di fronte all'ospedale Santa Maria alla Gruccia i rappresentanti sindacali protestano per una situazione che si fa sempre più difficile sia per i lavoratori dell'ospedale che per i servizi offerti. Questo ospedale vede una situazione anche un po' particolare perché io ricordo che noi siamo riusciti ad avere per esempio il primiario della ginecologia dell'ostretrice da poco siamo stati anni senza niente e questo ha comportato un problema a termini di nascite e poi ci vengono a dire che visto che c'è poche nascite si potrebbero prendere decisioni ma questo è un esempio che possiamo anche riportare per altre situazioni pronto soccorso, medicina, chirurgia eccetera quindi questo è un ospedale che dà un servizio a un territorio importante e vasto ai cittadini quindi noi qui siamo per, stamani siamo qui accanto ai lavoratori che soffrono ormai da anni e veramente troppo ma accanto anche ai cittadini, vogliamo essere accanto ai cittadini per far capire che è il momento veramente di tenere alto l'attenzione al fronte e c'è bisogno di far capire a tutti che questo è un ospedale che non deve assolutamente arretrare